Io sono Maria Letizia, lo sponsor ufficiale della lista La Campana per Continuare. È la prima volta che una lista civica include nel proprio simbolo una serie di partiti che sono poi partiti che stanno sostenendo il governo in questo momento. È la prima volta che Cervino riesce a capire l'importanza di una coalizione ed è la prima volta che ci stacchiamo da quelli che sono gli schemi precostituiti, delle lotte familiari, delle lotte fratricide. L'importante per Cervino è quello di fare una politica conseguenziale a quella che è stata portata avanti finora dal nostro compianto sindaco Carlo Piscitelli, ma soprattutto la cosa importante è che abbiamo sancito con questa lista la costituzione di una filiera, la filiera che va dal comune passando attraverso la provincia e finisce la regione Campania. In realtà quello che serve a questo comune è una grossa spinta produttiva, agricola, industriale, ma soprattutto un grosso rilancio turistico. La creazione dell'istituto alberghiero, il portare quello che è la risorsa di Cervino, cioè l'olio Dopalbit di Milano. E tutto questo si può fare solo se c'è un collegamento tra quelli che sono gli amministratori locali e quelli che sono le istituzioni. La cosa importante è che noi non stiamo lì per occupare una poltrona, ma stiamo lì per dare una risposta alla cittadinanza. E la risposta si può dare solo se abbiamo un contributo nelle varie istituzioni e nei vari enti. Se tutto questo non c'è, noi non riusciremo a portare fuori Cervino da quella che è la cronaca nera del nostro Paese. Grazie.